Francesco si prepara a partire per il Canada. Il centro di questa visita sarà l'abbraccio alle popolazioni indigene e alla Chiesa locale. Un viaggio molto desiderato? Sì, certamente. Un viaggio molto desiderato e al centro del quale ci sarà l'abbraccio con le popolazioni indigene e con la Chiesa locale. Come il Santo Padre ha ricordato domenica scorsa, dicendo che verrò tra voi nel nome di Gesù per incontrare e abbracciare le popolazioni indigene. Il Santo Padre in più occasioni ha manifestato una grande attenzione nei riguardi delle popolazioni autoctone. Possiamo pensare alle diverse visite nei suoi viaggi, ai numerosi incontri avuti in Vaticano ed anche all'esortazione apostolica che rida a Massonia. Nel caso delle popolazioni indigene e canadesi si tratta, sempre, l'ho specificato domenica scorsa nel suo intervento, di un pellegrinaggio penitenziale che fa seguito agli incontri avuti con alcuni loro rappresentanti a Roma nei mesi di marzo e di aprile. Dopo l'ascolto e un primo incontro, c'è ora dunque l'opportunità di avere una condivisione più ampia. Il Papa viaggerà per diversi giorni in luoghi tra loro anche molto distanti, con il desiderio di visitare le comunità indigene lì dove vivono. Certamente impossibile rispondere a tutti gli inviti e visitare tutti i luoghi, ma il Santo Padre è sicuramente mosso dalla volontà di manifestare una concreta vicinanza. Ecco, probabilmente la parola chiave è proprio questa, vicinanza. Il Papa non intende soltanto dire delle parole, ma soprattutto farsi vicino, manifestare la sua prossimità in modo concreto. Perciò si mette in viaggio per toccare con le sue mani le sofferenze di quelle popolazioni, pregare con loro e farsi pellegrino tra di loro. Ad aprile il Santo Padre ha chiesto perdono per la partecipazione di alcuni cattolici nel male arrecato alle popolazioni indigene, in particolare per quelli che hanno avuto responsabilità all'interno delle scuole residenziali tra la fine dell'Ottocento e gli ultimi decenni del Novecento. Il perdono e la riconciliazione guideranno dunque questi sei giorni canadesi? Ecco, come tutti ricordiamo, il Papa, nell'incontro del primo aprile, ha espresso vergogna e indignazione per le azioni di non pochi cristiani che, anziché dare testimonianza al Vangelo, si sono adeguati alla mentalità coloniale e alle passate politiche governative, politiche di assimilazione culturale che danneggiarono gravemente le comunità indigene. In particolare è stato doloroso il ruolo di alcuni cattolici nel cosiddetto sistema delle scuole residenziali, che ha comportato l'allontanamento di molti bambini indigeni dalle loro famiglie. E proprio questo contesto storico configura e caratterizza la dimensione penitenziale, come ricordavo prima di questo viaggio, nel quale sicuramente risulteranno i temi della guarigione, delle ferite e della riconciliazione. Ma non solo questo, perché gli incontri sulla scia di quelli calorosi che hanno avuto luogo a Roma saranno anche nel segno della fraternità e della speranza. E saranno anche nel segno della riflessione sul ruolo che le popolazioni indigene rivestono pure oggi. Può essere infatti proficuo per tutti riscoprire molti loro valori e insegnamenti. Penso ad esempio all'attenzione per la famiglia e per la comunità, alla cura per il creato, all'importanza attribuita alla spiritualità, al forte legame tra le generazioni, al rispetto per gli anziani. E a questo proposito il Papa ci tiene particolarmente a celebrare la festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, proprio nel contesto di questo viaggio. Il successore Di Pietro confermerà nella fede la Chiesa Cattolica, parteciperà, per suo espresso desiderio, al suggestivo pellegrinaggio al lago di Sant'Anna. Potrebbe chiedere un nuovo slancio evangelizzatore in un Paese dalle grandi risorse, non solo naturali? In ogni suo viaggio apostolico, e più in generale nel suo ministero, il Santo Padre non solo conferma la comunità cristiana, ma desidera anche essere e manifestarsi fratello nella fede, insieme al popolo di Dio, facendosi pellegrino presso i luoghi che visita e le tradizioni religiose che incontra. Così ha fortemente voluto vivere un momento liturgico presso il lago di Sant'Anna, che dagli autoctoni viene chiamato il lago di Dio. Lì da oltre cent'anni si svolge un pellegrinaggio in onore di Sant'Anna, la nonna di Gesù, e in quelle acque si bagnano molti ammalati e persone ferite, ferite nel corpo e nello spirito. In quel luogo particolare, nel contesto di una cornice naturale molto suggestiva, sarà bello, a proposito dell'evangelizzazione, tornare alle sorgenti della fede. Pensiamo a Gesù che disseta e guarisce, riversando nei cuori l'acqua dello Spirito Santo, l'acqua che zampilla per la vita eterna. Al tempo stesso, come del resto nelle altre tappe, nelle tappe di altri viaggi, il Papa non mancherà di richiamare l'urgenza dell'evangelizzazione in un contesto fortemente secolarizzato, facendo leva proprio sulle sfide che il secularismo pone alle nostre priorità pastorali, ai nostri linguaggi e, in generale, al nostro modo di essere chiese e di testimoniare oggi la fede. Il motto della visita è camminare insieme. Cosa si aspetta il Santo Padre da questo viaggio? Ecco, questo motto, oltre ad indicare il percorso che è stato intrapreso con le comunità indigene canadesi, evoca la parola sinodo, camminare insieme. E, come il Papa spesso ha ribadito, ecco, il sinodo non è un evento occasionale, ma è piuttosto uno stile ecclesiale. Uno stile ecclesiale che tutti siamo chiamati ad assumere nello spirito del Vangelo e delle prime comunità cristiane. Uno stile che si caratterizza nell'ascolto reciproco, nel dialogo, nel discernimento pastorale comunitario e nella fraternità. Ecco, immagino che sarà proprio in questo spirito che il Santo Padre non mancherà di annunciare ancora una volta la parola profetica del Vangelo, che invita a intessere fraternità, a costruire pace, a superare le divisioni, le quali spesso sono frutto non soltanto di egoismi personali, ma anche di mentalità e visione distorte. In tale senso, richiamando l'importanza della carità vicendevoli, il Santo Padre senz'altro auspica di poter incoraggiare in modo significativo il cammino già avviato dalla Chiesa e dalla società canadese sulla strada della riconciliazione e della guarigione. Un cammino che, partendo dalla purificazione della memoria, ravvivi il desiderio di un cammino fraterno, nel quale tutti, Chiesa e società civile, siano concordamente coinvolti. Come in molti ambiti, questo camminare insieme è essenziale oggi più che mai, e solo in tal modo, infatti, è possibile costruire e aprirsi ad un futuro di speranza. Grazie a tutti.